Dice, al 7 dicembre, allora un club di Ciampino c'è star quasi. Er quasi, ma che vor di chiesto quasi? Circa, pressa poco, poco meno che... Er treccanimente. Non ce siamo proprio, anzi, forse ce siamo quasi. Quasi è a distanza tra Caravaggio e Giovanni Buglione. Quasi è l'ermenetica che vuo passare per estetica. E c'è piena trambata che la metà ce basta. Quasi è il salto da acquaia che t'ha fatto nasce. È una sborrata sua schiena, ma Cristo gli ho preso i capelli che si è lavata oggi e mosso proprio tanti cazzi. Quasi è un apostrofo rosa tra le parole Sega e Bebevio. Se avete riso non siete delle brave persone. O quasi. Ma sti cazzi, quasi è prima di tutto una festa, la nostra festa. Una festa di quelle che esci da casa a bracci di tua madre perché non lo sai se tu orni. Una festa di quelle che tua madre ti abbraccia a sua volta. Una volta che ha visto come cazzo te sei conciato. Una festa di quelle che c'è sta gente che viene da Milano. De più da Londra. De più da Labbaro. Te qua, ma una cucchiara che manco Boris. Una festa di quelle che se qualcuno ti chiede, ma che musica passano? Te pietrifichi tipo cervo in tangenziale. Una festa di quelle che quando sei vecchio, con tu nipote in braccio e gli vuoi raccontare una favola, te viene in mente solo staserata. Quasi una festa che tra 30 anni, sicuro per quello che ci hai fatto, qualcuno te denuncia su Twitter. Ma te sei morto, che cazzo te frega. Morto o quasi. Quindi vedemo te vedesse. E'r 7 dicembre a Ciampino, all'Orion Club. Dalle 23 in poi ci trovate tutti lì. Tutti lì e sta porta senza quasi. Dai e zia, ho fatto pure questa. Ma poi da che cazzo mi posso vestire? Ce l'ho, da feto. Da feto. Siamo al top.